Dopo lo spostamento delle pietre presenti qui nel Teatro Romano di Teramo, Teramo Nostra oggi interviene nuovamente. In Danda è stato stravolto tutto il cronoprogramma, non c'è stato il passaggio di proprietà di casa Damoli al Comune e non si è acquisito casa Salvone dopo sette mesi. Noi sono 15 anni che stiamo a lottare per riavere questo progetto, questo che potrebbe dare veramente. Oggi stiamo a protestare perché il Braga non ha una sete degna, ma il Braga si potrebbe esibire in questo luogo storico. Ma tante attività culturali si potrebbero fare. Quale futuro vogliamo dare ai nostri giovani? Per non dare il futuro ai nostri giovani, per favorire 4-5 affaristi che vogliono fare gli affari, hanno speso più di 5 milioni di euro per fare un recupero parziale e definitivo. Per loro il recupero era pulire, mettere i cartelli e lasciare questo obbrobbio nella nostra città. Il sindaco dice che ha fatto, sono più di 3 anni, l'anno prossimo si andrà a votare, vogliamo vedere con che faccia si presenta la città a dire che lui ha fatto. Che cosa ha fatto di concreto? Non ha fatto niente, la sovrintendenza è collusa, è colpevole. Il Presidente della Regione non interviene. Ci troviamo dopo aver fermato il cronoprogramma a giugno, oggi siamo alla fine di gennaio, sono sette mesi, sfavorendo tutta la crescita culturale della nostra città per favorire 3-4 appaltatori collusi.